Ciao a tutti, tornato a Roma. Vi volevo dare un'informazione velocissima perché abbiamo fatto un incontro sul Superbonus, ne sto facendo tanti e sto seguendo in prima persona tutto l'evolversi della normativa anche attuativa. Molti ingegneri, architetti e commercialisti mi hanno sollevato il problema della mancanza ancora dei due decreti, dei due dei tanti decreti attuativi che abbiamo fatto, sui requisiti tecnici e asseverazioni. Giustamente loro sollevavano il problema di non poter utilizzare software perché i due decreti non erano ancora in gazzetta ufficiale ma erano fermi alla Corte dei Conti. Vi informo che sono rientrati dalla Corte dei Conti, sono arrivati allo sviluppo economico, quindi nei prossimi giorni saranno in gazzetta ufficiale. Un'informazione che sicuramente vi è utile. Siamo arrivati alla chiusura di tutti i decreti attuativi necessari per il funzionamento del Superbonus e rimango sempre a vostra disposizione per qualsiasi richiesta. Ciao a tutti!